Vai Alessandro, farlo vedere, perfetto, dentro farlo di una pallina Ok, rifarla ancora, vai dai dai, la pallina antistress Ragazzi, guardate che figa, com'è, tutto il giorno si è giocato, eh Ma quello sapevi che sa che ce l'ha regalata a Banggood, guarda, 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 lo vi faccio vedere Banggood! Guardate, questo è un regalo di Banggood, Alessandro, vai col ballo di Banggood Banggood, vai col ballo, vai col ballo Ragazzi, Banggood è un sito di commercio che fa arrivare prodotti dalla Cina a prezzi bassissimi Pensate che questa mi sembra che costa 2 euro Questa costa 2,90 euro, compresa la spedizione, mi sembra una cavolata veramente Una cosa strafica, strafica, c'è arrivata il regalo a noi Perché abbiamo fatto un accordo con Banggood che facevamo vedere un po' di prodotti strafichi Che sono dei strafichi perché li abbiamo scelti noi Papà, ti faccio vedere una cosa figa Che è bellissima Dimmi un po' di Che la adesso fa gonfiare però dopo si sgonfia, eh Devo prenderla una bella grossa Devo farla una bella grossa E te stavo provando la lente magro Lascio agli tutte quelle grosse Ecco, guardate, eh Questa la lascio così Le altre si abbassano Questa Rimane fuori Un attimo, un attimo, ci vuole più grossa Prima l'avevo fatto una mega gigante Basta fare così Conchiamo i più amici alla festa oggi che c'è questa pallina Eh, hanno detto che era fighissima Eh, troppo figa questa pallina, ragazzi Vabbè ragazzi, vi metti in descrizione questa pallina Un attimo che la faccio gonfiare un altro po' Ecco Ecco No, no, più grossa questa qua Questa qua me la tengo in mano Adesso la lascio Questa qua me la tengo bella stretta Sì Sì Dopo, un attimo Fighissima, vabbè Alessandro, dai, ciao, saluta Ciao Banggood, ciao, altri ciao, ciao ragazzi Ciao 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 Grazie.